Andiamo a vedere la 5-Up, non ce la siamo dimenticati questa settimana, sarà un po' diversa dal solito ma andiamo subito a vedere con l'ausilio anche della schermata chi sono i 5 che hanno occupato la 5-Up questa settimana. In prima posizione abbiamo Chiara Teocchi della TX Active Bianchi, per merito del suo sesto posto nella Coppa del Mondo Cross Country disputata in Germania. Un piazzamento di grande livello al cospetto del meglio della categoria Donne Junior del panorama internazionale. Una giornata felice per lei e per tutta l'Italia con la stravitosa vittoria di Greta Veithaler. In seconda posizione il dilettante Davide Villella che dopo tanti piazzamenti rompe il ghiaccio in casa vincendo il provinciale di Comonte. Titolo regionale della MTB per l'allieva ligure Alessia Verrando della Valcar PBM che alterna l'attività su strada a quella off-road. Quarto posto per l'esordiente Katia Moro, si è confermata campionessa lombarda MTB a Montalto Pavese. Quinta posizione per la Caravaggio off-road. Nella gara di casa al Bike Park, prova di trofeo Lombardia BMX, ha conquistato ben sei successi con i vari Mattia e Antonio Pauciullo, Ester Gatti, Zerboni, Rama e Douglas. Grazie. Grazie.